Presentate questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara le nuove destinazioni che partiranno a breve aggiungendosi a quelle già in essere. A luglio saranno quasi una trentina le rotte grazie ai voli di Alitalia, Ryanair, Volotea e l'ultima arrivata Flyle One. Si si è già partita, a giugno questa settimana noi abbiamo 15 partenze e 15 arrivi, 30 voli. A luglio arriveremo a 25-27 rotte, cioè decine di voli al giorno. Nuove rotte, nuove compagnie, Flyle One con queste nuove rotte estive di Corfu, Dubrovnik, Spalato, Pantilleria, La Mezzia Terme e Figari in Corsica. Poi avevamo già Treviso, cioè Venezia, Alghero e Torino di Ryanair, tutte le rotte tradizionali di Volotea, Tirana, Kovitzer, Ryanair che ha ripristinato tutte le rotte, Cracovia, Varsavia, Praga, Londra, Germania, eccetera. E quindi abbiamo nuove rotte, una ripresa molto forte, nuovi fondi non direi perché nuovi fondi, gli unici che dovevano arrivare ulteriore, era il milione e mezzo di euro del bando della Regione, ulteriore che però non è arrivato, purtroppo non è stato editato. Noi stiamo ancora lavorando col bando di 800 mila euro di novembre dell'anno scorso che però è stato editato da Saga, ci è stato dato a noi a novembre, noi in 20 giorni abbiamo attuato e come dire realizzato, invece purtroppo è un anno e mezzo che aspettiamo questo bando di un milione e mezzo che non arriva, che ci avrebbe molto aiutato e purtroppo ci ha fatto perdere qualche destinazione, qualche compagnia. Approvato anche negli ultimi giorni il bilancio da parte del CDA, presieduto dal presidente della Saga Enrico Paolini, il cui mandato scadrà a fine giugno. Avete anche approvato il bilancio? Sì, pochi giorni fa, adesso andrà all'Assemblea dei Socii il 29 giugno, con un meno 168 mila euro formale, che però in attesa dei 300-400 mila euro di ristoro del governo che dobbiamo avere per il 2020, ma avremo sul 2021, nella sostanza è un attivo di circa 150-200 mila euro in un mondo di aeroporti italiani dove nessuno chiude in attivo e i più fortunati chiudono con qualche milione di deficit. Guardi, dopo tre bilanci in tutte le società pubbliche si decade, non è che io vengo tolto, io decado e il giorno 29 giugno il socio regione, che è il socio al 99%, deve nominare un nuovo presidente, un nuovo CDA. Ovviamente faranno come credono, a me non è stato detto nulla, quindi posso supporre di non essere sicuramente il primo della lista, ma questo mi interessa relativamente. Quello che mi interessa molto è far capire a tutti, e spero di averlo fatto capire, alla regione Abruzzo, all'attuale governo della regione Abruzzo, che qui non si può mettere una persona qualsiasi, pur se è rispettabile, qui ci vuole un manager, qui non si tratta di una nomina pubblica dove venire a fare passeggiate in macchine blu o fare altre cose del genere, qui si tratta di venire, fare progetti, piani industriali, avere rapporti con le compagnie, trovare denari, fare entrare denari commerciali, gestire il personale, è un lavoro da manager con forti caratteristiche aeronautiche e turistiche. Detto questo, immagino che la regione farà il suo dovere, nei modi e nelle forme che la legge prevede.